A meno di due anni dalla tragica scomparsa, il paese di Cosio Valtellino darà il nome di Don Roberto Malgesini all'auditorium comunale, domani la cerimonia di intitolazione al prete degli ultimi. Collegherà Bergamo a Tirano attraverso 139 comuni e orobaicando la nuova ciclovia delle Alpi Orobie voluta da Regione Egal per far conoscere il territorio e i prodotti agroalimentari. La nazionale italiana di nuoto a Livigno per la preparazione degli atleti in vista dei mondiali di giugno e degli europei di agosto e questa settimana è tornata anche la fuoriclasse Federica Pellegrini. Per il secondo anno consecutivo la città di Sondrio è stata scelta come sede di apertura della milanesiana, ospite d'eccezione il vincitore del Festival di Sanremo 2007, Simone Cristitti. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Si terrà domani l'intitolazione dell'auditorium comunale di Via Vanoni a Cosio Valtellino alla memoria di Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi e ucciso il 15 settembre del 2020 a Como. Grande fu il cordoglio per la scomparsa del sacerdote originario proprio di Regoledo. La comunità locale partecipò in massa ai funerali celebrati nella chiesa di Sant'Ambrogio e da subito fu espressa la volontà di dedicare un luogo del paese al suo ricordo. L'amministrazione comunale ha scelto l'auditorium delle scuole medie e in collaborazione con l'istituto comprensivo ha condiviso un progetto per far conoscere ai ragazzi la figura di Don Roberto. Il progetto culminerà nella giornata di domani nella quale Eugenio Arcidiacono, autore del libro Asciugava lacrime con mitezza dedicato a Don Malgesini, presenterà la sua opera. Nella sala dell'auditorium sarà posata la foto di Don Roberto e all'esterno una targa di intitolazione. Il programma della giornata prevede alle 11.30 l'intitolazione e l'incontro con i ragazzi delle scuole. Alle 18 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale e alle 20.30 l'autore Eugenio Arcidiacono presenterà alla popolazione il libro dedicato a Don Roberto. Una ciclovia che collega le Alpi Orobie da Bergamo fino a Tirano attraverso una rete di piste ciclabili è il progetto Orobaicando presentato a Palazzo Lombardia. Vediamo. È stato presentato a Palazzo Lombardia il progetto Orobaicando, incentrato sul cicloturismo, è nato con l'intento di creare la ciclovia delle Alpi Orobie. L'obiettivo è valorizzare il turismo rurale e il patrimonio enogastronomico attraverso la realizzazione di una rete ciclabile tra le province di Bergamo e Sondrio. La ciclovia collega l'area rurale dall'aeroporto di Oro al Serio fino a Tirano e si sviluppa lungo una superficie di 795 km, il tutto per 64 tracciati che si snodano nel territorio di 139 comuni. Il 47% dei percorsi ciclabili passano su aree protette. Le ricadute del progetto possono interessare potenzialmente una popolazione di circa 427.000 persone, un territorio ricco di eccellenze agroalimentari, 5 formaggi di IOP, diversi vini e vitigni, bresaola, mila IGP, olio e piccoli frutti. L'iniziativa è promossa col sostegno di Regione Lombardia dai GAL dei territori interessati. Pensati con l'obiettivo di essere percorsi da tutti, i tracciati ipotizzati dallo studio di fattibilità sono di difficoltà varia, dalle ciclo pedonali classiche agli itinerari con strade moderate e a basso traffico, senza dimenticare la viabilità agro silvopastorale e le strade campestri. Sul percorso lo studio ipotizza diverse tipologie di servizi come area di sosta breve e sosta escursionistica. A queste potranno affiancarsi i punti di ristoro mobili, servizi di prossimità come bar, rifugi, aziende agricole, negozi, punti noleggio e guide turistiche. Orobaicando nasce sulla base di una strategia di sviluppo condivisa volta alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari attraverso la promozione della mobilità dolce. Allo stesso tempo si vuole realizzare un modello di governance capace di potenziare e valorizzare i servizi ecosistemici legati al turismo rurale. Si pensi alle caratteristiche e alle particolarità ambientali dei territori attraversati, ad esempio, senza dimenticare la creazione di una rete di cooperazione tra gli stakeholder locali per coinvolgere in forma stabile tutti i soggetti del territorio. In Italia per i crimini più efferati si può condannare l'imputato all'ergastolo, ma in molti paesi del mondo è ancora presente la pena di morte, un tema molto delicato ma che è stato affrontato a ponte in Valtellina. Ad analizzarlo chi per motivi professionali ha intervistato un uomo rinchiuso nel braccio della morte. Intervistare un uomo che letteralmente ai giorni contati, aprire grazie alla potenza della radio un varco nel braccio della morte in Virginia collegandosi dall'Italia. E vent'anni dopo riportare sotto i riflettori la storia di Derek Rocco Barnabé, 26enne italo-americano condannato a morte per violenza sessuale o omicidio, al termine di un processo indiziario durato tre settimane. Un libro che scuote le coscienze con Alessandro Milan, giornalista, conduttore radiofonico e scrittore nato a Sesto San Giovanni, molto legato alla Valtellina, come ha spiegato a Piateda e a Ponte nei due incontri organizzati dal Lions Club Tellino e dalle biblioteche comunali dei due paesi. Io ho passato letteralmente tutte le vacanze da mia infanzia a Piateda, per la precisione a Valbona, sono i ricordi più spensierati, quelli delle corse nei boschi, delle prime sciate nei prati lungo il serio, diciamo che sono i ricordi più belli, perché poi io credo che tutti i ricordi della nostra vita più belli siano legati ai momenti dell'infanzia. Derek Rocco Barnabé si dichiarò innocente e vittima di un complotto. In molti si mobilitarono contro la sentenza, intervennero esponenti politici, il Parlamento europeo con la richiesta di comutarla con Daniel Nergastoro, persino Papa Giovanni Paolo II. La Corte Suprema rigettò i ricorsi presentati e Barnabé fu giustiziato in Virginia il 14 settembre 2000. Io vent'anni fa incrociai prima la madre del condannato a morte Derek Barnabé e poi lui stesso in una serie di interviste e iniziai un percorso proprio nell'orrore, io lo chiamo così, della pena capitale negli Stati Uniti, un viaggio che mi ha veramente illuminato e mi ha fatto capire che la pena di morte è sempre comunque sbagliata, anche per i crimini più efferati, perché abbiamo dei metodi più civili per punire chi sbaglia. Nel frattempo in Virginia le cose sono cambiate? Eh sì, proprio vent'anni dopo il caso Barnabé, nel momento in cui ho pubblicato il libro, anche se non c'è alcun legame se non una coincidenza fortunata, il governatore della Virginia ha deciso di abolire la pena di morte ed è una decisione davvero storica perché la Virginia è lo Stato americano che in tutti questi centinaia di anni ha condannato più persone a morte e ne ha giustiziate più di tutti e quindi è una piccola svolta positiva nella speranza che davvero la pena di morte venga abolita ovunque, prima o poi nel mondo. Ricordiamo che il nostro è stato un paese, l'Italia, che davvero ha anticipato tutti. L'Italia deve avere questo orgoglio di dire noi per primi con il Granducato di Toscana, il Granduca Leopoldo di Toscana, che nello statuto leopoldino, eravamo alla fine del 1700, quindi nel 1786, ha scritto nero su bianco l'abolizione della tortura e della pena di morte. Allenamenti in quota per la nazionale italiana di nuoto accade a Livigno che da tempo è diventata riferimento per la preparazione in altura. Questa settimana nella Valle dello Spola è tornata anche la fuoriclasse Federica Pellegrini. È a Livigno a 1800 metri di quota che i più forti nuotatori italiani si preparano in vista delle competizioni europee e mondiali. Allenamenti in altura che hanno preceduto le imprese sportive di Federica Pellegrini, la divina della nazionale azzurra. In questi giorni i nostri campioni sono saliti in quota. Sono arrivati gli azzurri, la squadra di Matteo Giunta e la squadra di Stefano Morini. Lo stage si sta andando benissimo, come al solito Livigno c'è molto vicina nel cuore, ci alleniamo bene, viviamo bene, siamo ormai una parte della comunità. Come si trovano i ragazzi, le prestazioni come vanno? Le prestazioni in allenamento stanno andando molto bene, stanno crescendo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, in funzione di tutta la parte estiva, che sarà dalla fine di giugno con i campionati del mondo e poi i campionati europei di Roma di agosto. Prima di allora avrete qualche test cronometrico? Sì, faremo più o meno qualche meeting, Barcellona, Canè o ad esempio a Livorno, però solo per provarci, niente di che. Ambizioni? Beh, sempre. L'ambizione è l'ultima a morire, ce l'abbiamo sempre. Quante ore? Ora ci stiamo allenando due ore e mezzo al mattino, due ore al pomeriggio e più tre volte alla settimana la palestra. La città di Sondrio è stata scelta per il secondo anno consecutivo come sede di apertura della milanesiana, ospite d'eccezione Simone Cristicchi, vincitore del Festival di Sanremo del 2007, ma anche attore, scrittore, autore teatrale e disegnatore. Il 4 giugno si alza al sipario sul palco Simone Cristicchi, in platea i Sondriesi. La milanesiana Festival della Cultura, ideato e curato da Elisabetta Sgarbi, si apre con lo spettacolo del noto ed eclettico artista, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007. Anche l'anno scorso la Sgarbi aveva scelto Sondrio come prima tappa con Enrico Ruggeri. Per l'apertura di questa ventitreesima edizione ci sarà l'autore della celebre canzone Ti regalerò una rosa, in un doppio appuntamento. Al Museo Valtellinese di Storia e Arte sarà allestita una mostra sul poliedrico Cristicchi, non solo cantante, ma anche attore, scrittore, autore teatrale e disegnatore. Alle 21 al Teatro Sociale si terrà il concerto Abbi Cura di Me. Entrambe le iniziative sono promosse dal comune di Sondrio e altri enti e aziende locali. Seguiranno due mesi itineranti in 20 città diverse, con più di 150 ospiti e oltre 60 appuntamenti, tutti attorno al tema omissioni, quello che avremmo dovuto e potuto fare, spiega la Sgarbi e non abbiamo fatto, che avremmo potuto e dovuto dire e non abbiamo detto. Sarà proprio lei a introdurre i due appuntamenti. Come amministrazione comunale, sottolinea l'assessore alla cultura, educazione e istruzione Marcella Fratta, siamo grati a Elisabetta Sgarbi per aver scelto la città di Sondrio come tappa iniziale della milanesiana. Il ruolo della cultura è fondamentale per la formazione del cittadino e con orgoglio possiamo dire che i nostri cittadini hanno da subito sostenuto la nostra scelta di aderire alla proposta. Siamo grati all'accordata di enti pubblici, fondazioni, aziende e sudalizi che anche quest'anno ci ha consentito di elevare l'offerta culturale della città. Piccoli calciatori prestati all'atletica per un giorno è quanto ha proposto il CSI di Sondrio allo stadio della Castellina con Sporting Go, giornata che ha coinvolto 120 bambini del CSI Calcio Under 10 e 12 in un triathlon che li ha messi alla prova nelle discipline individuali. Vediamo. Lo stadio della Castellina ha ospitato la fase provinciale della manifestazione Sporting Go, evento finale della stagione per le categorie Under 10 e 12 del calcio giovanile targato CSI Sondrio. L'attività delle due categorie, spiega il responsabile calcio del CSI Sondrio Silvio Guglielmana, è concepita infatti come la sommatoria della stagione calcistica effettiva e di una parte dedicata all'atletica. All'evento hanno aderito più di 100 bambini che si sono cimentati in un triathlon costituito dal lancio del Vortex, salto in lungo e 60 metri piani. La giornata è stata organizzata dal comitato CSI di Sondrio con una riuscitissima collaborazione tra la sezione calcio e quella atletica leggera, capitanata dallo storico giudice di gara Oliviero Cornaggia. Il bilancio, nonostante fosse un esperimento primo nel suo genere e con tante incognite, è largamente positivo, conclude Guglielmana. I ragazzi, abituati a vedere solo il calcio come concetto di sport, hanno scoperto una nuova e nobile disciplina sportiva che, oltre a essere utilissima nello sviluppo psicofisico anche calcistico, è divertente e coinvolgente. Il concetto di sport individuale, spiegato a chi è nato con lo sport di squadra, un bellissimo connubio che favorirà la crescita dei ragazzi, è un'esperienza che sicuramente riproporremo l'anno prossimo. Prossima tappa, le fasi regionali a Mantua il 22 maggio, a cui si sono qualificati il CSI Tirano nell'Under 10 e la SDC Valchiavenna nell'Under 12. Per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona serata.